fratelli giuventini e sorelle giuventine dare le pagelle a questo schifo di partita vi anticipo che non è facile però ovviamente avendo anche un fantaotto ed essendo una rubrica che è molto seguita mi vedo costretto a farlo ma questa sera veramente veramente quasi a ribrezzo va bene buffon 6 non ha colpi su rigore perché rigori si possono parlare se non si possono parlare ha fatto un paio di interventi interessanti ma poi di fatto diciamo tutte palle rocambolesche che giravano davanti alla porta non ha inciso nel bene nel male 6 di stima fra botta 6 ha fatto cose buone cose meno buone sicuramente deve crescere un ragazzo giovane ma non è certo lui il colpevole di questa partita insulsa dalle juventus danilo è un giocatore che non so come sia possibile che giochi nelle juventus sinceramente giocatore che anarchico non incide mai nel bene fa spesso delle cavolate in difesa perde palloni pericolosi è un brasiliano con i piedi di piombo e quindi non so 5 bonucci 6 avrebbe preso 5 ve lo dico subito perché si incaponisce con quei lanci insulsi con quelle aperture senza senso laterali però ha fatto un intervento sul finire che ha praticamente tolto il pallone dai piedi di un giocatore del cortone che molto probabilmente faceva avrebbe fatto gol quindi gli do 6 demirale demirale 5 demirale non mi è piaciuto d'altra parte è stato fermo però io ragazzi inutile che tutte le volte che do un voto poi mi dovete mi venite di re ma non giocava doveva recuperare ragazzi io devo guardare la prestazione non sto criticando demirale sto dicendo che questa sera demirale ha giocato da 5 ha fatto degli interventi anche abbastanza irruenti e pericolosi quindi 5 arthur a me è piaciuto molto a me è piaciuto molto sarà che prima c'era pianici che faceva schifo stasera non ha praticamente perso un pallone ha sempre sempre cercato di costruire ma purtroppo se tu cerchi di costruire o di piantare dei fiori nel deserto se non piove i fiori non crescono arthur ha seminato nel deserto però un bel 7 se lo prende quadrado subentrato troppo tardi in modo di vedere ha inciso relativamente purtroppo un giocatore che se non entra subito in partita fa fatica però ha fatto cose buone quindi diciamo che gli do 6 di stima portano a 5 io non l'ho capita la mossa di pirlo avrei dovuto dargli 4 non è servita niente oltretutto due volte si è trovato tu per tu quel portiere gliela ha tirata in bocca io sono molto cattivo avendo giocato centravanti io piuttosto la tiravo fuori quando giocavo centravanti ma non tiravo mai sul portiere l'angolavo a costo di sbagliare questi centravanti moderni che centrano sempre il portiere non li capisco in telecronaca pardo ha dato un merito a cordaz no veramente cordaz non si doveva spostare la palla è arrivata addosso ma poi non mi è piaciuto 5 era più sv non ha inciso in niente entrato in campo girato per il campo non ha trovato la collocazione non mi faccio una colpa mi spiace ma sv betancur 6 betancur e gli avrei dato 4 per come ha giocato perché per me betancur è un giocatore che non è né carne né pesce l'ho detto mille volte lo ripeterò voi direte che mi sono accanito però poi nel secondo tempo quando è uscito artur è sempre così e succede sempre così quando esce quello che dovrebbe essere il regista titolare come accadeva con pianici lui sale in cattedra incomincia a migliorare a questo punto dobbiamo deciderci o betancur è un interditore e gioca l'interditore allora è scarso perché fa dei falli ed è ruento oppure se si gioca lui non gioca arturo viceversa tutto qua molto semplice 6 morata 7 gli do 7 perché era sempre dove doveva essere non aveva un ruolo semplice perché stasera giocava praticamente da vera punta da unica punta non è il suo ruolo c'è stato nel tap in sul bellissimo assist di chiesa e c'è stato anche sul secondo tap in di fatto la zampata sul cross di sul passaggio di filtrante di quadrado purtroppo era in fuorigioco di poco ma comunque un bel set e se lo merita bernardeschi io veramente io vorrei fare un appello alla società bernardeschi sono tre anni che fa schifo sono tre anni che è inguardabile è inutile che lo vogliamo provare a destra a sinistra trequartista terzino mediano bernardeschi è un giocatore che si è involuto quando tiene la palla quando la palla lui la tiene tre quarti d'ora poi anziché velocizzare il gioco per tre volte in ripartenza e chi sa di calcio sa che la ripartenza deve essere fatta in velocità lui ha rallentato il gioco e tant'è che la squadra poi avversaria si è schierata e si è messa diciamo in copertura e lui cosa ha dovuto fare ha dovuto passare la palla indietro quindi bernardeschi pierlo te lo dico col cuore in mano bernardeschi a gennaio imbarcatelo se ci riuscite vedrai che ti creerà solo dei problemi e vedrai che rischierà di farti risonerare quattro chiesa 66 perché aveva voglia poverino si è dato da fare ha fatto qualche bella sovrapposizione è veloce non è non è ancora ovviamente la prima partita io diciamo che gli avrei dovuto dare cinque a parte l'assist bellissimo che ha fatto che gli merita solo quello la sufficienza però poi è stato molto precipitoso ha perso molti palloni insomma dai è la prima partita cerchiamo di essere buoni sei culo seschi che a me piace molto perché a me piace molto culo seschi e confido molto in lui però questa sera mi dispiace ma vuoi complici cambiamenti di posizione che pierlo continuava da fargli non è entrato in partita non ha inciso più di tanto e tante che poi giustamente l'ha tolto 55 pirlo pirlo signori questa sera guardate se anziché chiamarsi pirlo si chiamava sarri o si chiamava allegri ve lo dico con grande sincerità gli davo 4 4 gli davo ma siccome si chiama pirlo e ha nei miei e io nei suoi confronti un grande credito e lo voglio lasciare in pace per un po lo voglio lasciare lavorare gli do 5 però pierlo smettila di fare degli esperimenti smettila di mettere in campo contemporaneamente dei ragazzini i lanci quando è il momento adesso tu avevi un'occasione stasera di andare a fare tre punti a crotone una squadra che ha preso quattro gol dal genoa quattro gol dal sassuolo e due gol dal milan noi non siamo riusciti a farne neanche uno siamo riusciti anche a farci espellere le vabbè di complice l'arbitro che è stato un arbitraggio io non parlo mai degli arbitri ma l'arbitraggio di questa se dovessi dare il voto all'arbitro gli darai meno quattro neanche zero meno quattro un arbitraggio scandaloso vergognoso ma comunque questo è un altro discorso che non voglio usare nelle pagelle però pirlo cioè cerca di mettere in campo i giocatori nei loro ruoli non cambiare di posizione ogni tre minuti e soprattutto a 20 minuti della fine di balino non poteva entrare anziché mettere in campo bernardeschi che praticamente ha annullato la juventus perché perlomeno finché c'erano in campo chiesa coluseschi un po in difficoltà con i fraseggi con Morata l'avevano messo il cortone la juve è sparita la juve ha rischiato di prendere il secondo e il terzo gol dopo è scomparsa e l'allenatore sei tu la squadra non hai messa in campo tu non io quindi mi dispiace Andrea sai che ti stimo però se continui così non fai tanta strada fidati cambia cambia registro già col Kiev metti in campi migliori e domenica col Verona metti in campi migliori lascia stare gli esperimenti fagli un'altra volta buonanotte a tutti ragazzi ciao 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 ciao